Musica Da lunedì riaprono piscine, palestre e circoli culturali, dal 4 giugno ripartono anche i musei e la biblioteca civica di Lecco, previste limitazioni per le norme anti-Covid. Musica Nel racconto dell'anestesista Paolo Maniglia rientra dei pazienti curati in Germania, la voglia di ripartire ma non è facile, dopo lo tsunami restano le macerie e dice Musica La violenza sulle donne è una piaga che si acuita con il coronavirus, soprusi e angherie tra le mura domestiche, il video dei centri antiviolenza di Lecco per dire non sei sola. Musica Quest'anno i saldi estivi cominceranno il primo di agosto, la decisione per arginare la crisi di mercato causata dall'emergenza sanitaria, soddisfatta Federmoda Lecco. Musica Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Unica Lecco. In primo piano ci occupiamo delle nuove aperture della fase 3, potremmo definirla così, che partirà da lunedì. Da lunedì infatti riaprono piscine, palestre, circoli culturali, dal 15 giugno via ai centri estivi, ma vediamo tutte le novità in questo servizio. Lentamente si riparte, firmata nelle scorse ore da parte del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontano, la nuova ordinanza. Da lunedì primo giugno riapriranno palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi. L'attività fisica all'aperto potrà essere eseguita nel rispetto delle misure di distanziamento di due metri previste dal decreto ministeriale. Vi è libera anche l'accesso nei parchi tematici di divertimento, oltre che nei parchi faunistici. Attività che dovranno rispettare le puntuali indicazioni contenute nelle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. Dal 15 giugno è previsto anche l'inizio dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza dai 3 ai 17 anni. E l'attività di spettacolo fatta salva la possibilità di svolgere le prove in assenza di pubblico già a partire dal 1 giugno, sempre nel rispetto di quanto previsto dalle regole delle linee guida interregionali. L'ordinanza conferma poi l'obbligo su tutto il territorio regionale di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto. Resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore di lavoro e per i dipendenti, così come la stessa misura continua a valere anche per i clienti dei ristoranti. Permane infine il blocco delle slot machine nei locali pubblici. La nuova ordinanza sarà valida dal 1 al 14 giugno 2020. E dal 4 giugno riaprono anche i musei e la biblioteca civica di Lecco, ma non mancano le limitazioni dovute alle norme anti-covid. Tra queste orari ridotti, ingressi contingentati, prestiti solo su prenotazione. Vediamo. La cultura riparte ma a rotazione. Aprono da giovedì 4 giugno i musei di Lecco a turni e con ingressi gratuiti fino a fine agosto. Villa Manzoni, Palazzo delle Paure, Palazzo Belgioioso e la Torre Viscontè saranno nuovamente visitabili, con tutte le precauzioni previste dalle norme per prevenire il contagio da coronavirus. A causa della necessità di un numero di operatori più elevato per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie, i poli museali saranno aperti a rotazione. Tutti rimarranno chiusi lunedì e il martedì. Palazzo Belgioioso sarà aperto mercoledì mattina. Villa Manzoni e Palazzo delle Paure in modo alternato tra mattina e pomeriggio, venerdì, sabato e domenica. La Torre Viscontè sarà aperta, come sempre nei periodi delle mostre temporanee, venerdì, sabato e domenica. Dal 4 giugno anche la biblioteca civica Uberto Pozzoli riapre al pubblico, riattivando i servizi di restituzione e prestito su prenotazione, che saranno attivi dal lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 al Piano Terra. Ha lestito una postazione per la registrazione e la consegna dei materiali prenotati. Nell'intervallo tra le 12.30 e le 14 verranno svolte le necessarie operazioni di sanificazione. Il prestito è consentito solo su prenotazione. Potrà entrare una sola persona alla volta, con mascherina e sarà misurata la temperatura corporea. Sarà inoltre necessario sanificare le mani con il gel disinfettante. La restituzione dei libri sarà effettuata all'ingresso della struttura, dove saranno posizionati dei contenitori ad hoc per limitare il più possibile i tempi di sosta degli utenti, mentre per il momento il box esterno per le restituzioni resterà chiuso. I volumi restituiti rimarranno in quarantena per 72 ore, prima di essere trattati e reinseriti nel circuito del prestito, mentre tutte le sale di lettura e studio resteranno chiuse. E ora ci spostiamo all'ospedale di Lecco, dove lavora come medico anestesista il dottor Paolo Maniglia. Nel suo racconto il rientro dei pazienti che sono stati curati in Germania e la voglia di ripartire, ma non è facile, dice, dopo lo tsunami restano le macerie. Sentiamo. Un cerchio che si chiude, a disegnarlo con parole che ancora una volta commuovono, è Paolo Maniglia, medico anestesista dell'ospedale di Lecco. A inizio aprile con un post su Facebook aveva raccontato il dietro le quinte, se così si può dire, di chi stava vivendo in prima linea lo tsunami del virus, in particolare l'esperienza della partenza dei suoi pazienti per la Germania. Gli stessi che ora sono tornati, come racconta con un altro post toccante Maniglia. Settimana scorsa sono andato a recuperare il signor G, sempre a Colonia. Era un po' confuso, ma rivederlo è stato bello. Oggi rientra dalla Germania la signora G. Sta bene, è ancora un po' affaticata, ma sta bene, questo è quello che conta. È una pazienza dell'ambulatore della terapia del dolore, la conoscevo da tempo, ho voglia di rivederla. Anche il signor C, che era volato a Terni e è rientrato, lui mi sembra si sia fatto il viaggio di ritorno in elicottero. Devo ammettere che ho tenuto le dita incrociate per tutto questo tempo, non per questioni di sfiducia nell'operato dei colleghi che li hanno ricevuti, anzi avranno la mia gratitudine per l'eternità. Con molti di loro ci siamo sentiti in questo periodo, periodicamente scrivevo o telefonavo per sapere le condizioni cliniche. Ho incrociato le dita perché a volte non bastano, nella scienza, nel massimo impegno che si può dare. Spesso serve anche un pizzico di fortuna, soprattutto quando deve affrontare un nemico che non conosci, così subdolo da presentarsi sotto forma di polmonite e mutare in poco tempo in una patologia multiorgano. Ora nel nostro ospedale rimane un solo paziente in terapia intensiva, il signor P incrocia le dita anche per lui, e qui il cerchio si chiude. Per il resto stiamo cercando di ripartire, di riprendere la nostra routine, ma è faticoso, siamo tutti stanchi, ancora di ferie non ne abbiamo fatte, e ancora la situazione è incerta. Tanti di noi sono ancora attivati, non riescono a uscirne, tanti vorrebbero andare avanti, ma ogni volta che entri in ospedale c'è sempre qualcuno o qualcosa che ti ricorda quei giorni. È come un vortice che ti risucchi e ti sbatte di nuovo in mezzo alla polvere, ti manca il fiato per qualche secondo, ti concentri, fa un respiro e ritorni coi piedi per terra, e riprendi a fare quello che devi, sapendo che questa è la tua nuova normalità. Non so cosa succederà nel futuro e non voglio saperlo, per ora ho voglia di ripartire, ma se prima è passato lo tsunami, ora rimangono le macerie, bisogna rimboccarsi le maniche, qui, ospedale di Lecco, non lasciamo indietro nessuno. Non sei sola, le volontarie dei centri antiviolenza del territorio lecchese, in collaborazione con il Comune, hanno realizzato un video per sensibilizzare le donne, anche in tempo di coronavirus, a non subire in silenzio soprusi e angherie tra le mura domestiche. Conosciamo il tuo terrore, la tua paura nel sapere che sei rimasta chiusa in casa da sola con lui. Conosciamo la tua angoscia, quando in questi giorni ho osservato i suoi cambiamenti senza poter distogliere lo sguardo. Conosciamo il tuo smarrimento, quando ti chiedi perché sta capitando proprio da te. Il coronavirus ha cambiato le nostre abitudini, costringendoci a passare molto più tempo in casa. Ma per molte donne costrette a vivere con una persona violenta, quelle stesse mura sono diventate una prigione senza via d'uscita. È per questo che i centri antiviolenza del territorio lecchese hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione. Noi ci siamo e siamo pronti ad assistere ogni donna vittima di abusi e maltrattamenti. Il messaggio lanciato in un video, ideato nell'ambito del tavolo della rete territoriale antiviolenza di Lecco, che dà voce alle donne che vogliono aiutare altre donne. Le volontarie dei centri antiviolenza vogliono far sapere che una telefonata o un contatto tramite app può cambiare la vita. Nessuna donna si deve sentire sola. Tu meriti di essere felice, di sentirti amata. I tuoi figli meritano una madre contenta. I tuoi genitori desiderano una figlia serena. Noi siamo io. Fidati di noi. Chiama anche solo per una chiacchierata. Una chiacchierata? Non è denuncia. Potrei risponderti io. 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 Sconti tari per i commercianti e investimenti in infrastrutture. Silea prova bilancio 2019. In calo per il blocco dell'inceneritore e traccia le linee guida per lo sviluppo futuro. Presto al via il revamping dell'impianto di Seruso. Un dividendo straordinario per permettere ai comuni di ridurre la Tari alle attività che hanno maggiormente patito il lockdown. A deciderlo l'Assemblea di coordinamento intercomunale di Silea che ha approvato il bilancio 2019. In calo di oltre 3 milioni il valore della produzione, meno 8% rispetto all'anno precedente. Il bilancio si è attestato a circa 40 milioni e mezzo di euro. A causare buona parte del decremento degli introiti. Il fermo per manutenzione dell'impianto di incenerimento. Con conseguente diminuzione dei ricavi da conferimento, rifiuti e da energia elettrica generata. Oltre che aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti in altri impianti. L'utile del 2019 si è attestato a 490 mila euro. Integralmente accantonato. Numerosi investimenti programmati in impianti e infrastrutture per un totale di oltre 20 milioni, alcuni dei quali già in corso. Tra questi l'impianto per il dosaggio dei fanghi di depurazione, l'impianto di digestione anaerobica a dannone per la produzione di biometano, la realizzazione delle casette ecologiche e la ristrutturazione dei centri di raccolta. Oltre al revamping dell'impianto di Seruso, per il quale la provincia dovrebbe bandire a giorni la gara per il project financing, con previsione di completamento lavori entro l'estate 2021. Un intervento quest'ultimo fondamentale per rispettare gli standard di qualità previsti dal Consorzio per il riciclo della plastica. Gli investimenti saranno prevalentemente autofinanziati da Silea, senza ricorso ad indebitamenti bancari. Per il 2020 previsto un aumento dei costi a causa del servizio straordinario di raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati per i contaminati da Covid-19, che se il servizio dovesse proseguire fino a fine anno raggiungerebbe la cifra di circa 400 mila euro. Allo stesso tempo l'Assemblea ha approvato una distribuzione straordinaria di dividendi derivanti dagli utili degli anni precedenti che saranno utilizzati dai comuni per la riduzione della Tari alle attività colpite dallo stop imposto dall'emergenza. La distribuzione sarà definitivamente approvata tra due settimane. Confermato infine lo slittamento al 1 ottobre dell'avvio della misurazione puntuale dei rifiuti, che partirà dal territorio oggionese. Quest'anno i saldi estivi cominceranno il 1 agosto. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale alla luce della crisi di mercato causata dall'emergenza coronavirus. Soddisfazione per Federmod Alecco. Saldi estivi dal 1 agosto. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, ha approvato la delibera che fissa in agosto l'inizio dei saldi in Lombardia, un mese dopo rispetto agli scorsi anni. I risultati vincenti, sottolinea l'assessore, nascono sempre dal confronto, in questo caso con le associazioni di categoria e con le regioni e le province autonome. Regione Lombardia aggiunge come sempre fonda il suo metodo sul dialogo e ora più che mai lavorare in squadra è vitale soprattutto per il nostro tessuto produttivo così duramente provato. Soddisfazione di Federmod a Confcommercio, che a gran voce aveva richiesto lo slittamento dei saldi. È una decisione importante che stavamo aspettando, afferma Oscar Riva, presidente di Federmod Alecco. Ci siamo mossi fin da subito nell'interesse della categoria e alla luce del nuovo scenario di mercato creatosi con l'emergenza sanitaria. Siamo soddisfatti di questa scelta frutto di un compromesso tra la grande distribuzione che voleva tenere i saldi a luglio e la nostra richiesta di spostarli a settembre. La Giunta regionale ha stabilito inoltre di sospendere il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, e cioè dal 2 al 31 luglio. Dopo due mesi di chiusura forzata, molti negozi si trovano con merce acquistata per la stagione primaverile e in venduta, spiega Riva. Questa apertura alle promozioni consentirà a molti di provare a svuotare i magazzini. La decisione dello slittamento dei saldi estivi è valida soltanto per la stagione 2020, ma i vertici di Federmod si augurano che possa essere adottata anche in futuro. Le stagioni si sono spostate in avanti, sottolinea Riva. Far partire i saldi a luglio non ha molto senso, visto che di fatto sono posti a inizio stagione. Pensiamo a prodotti come i sandali o i costumi. Come ha ricordato il Presidente nazionale di Federmoda, Renato Borghi, si tratta di una scelta responsabile che premia la volontà espressa a larga maggioranza dalle aziende rappresentate in Lombardia ed in Italia. Il Comune di Oggiono ha proposto la candidatura dell'azienda Marco D'Oggiono Prosciutti per il premio Rosa Camuna di Regione Lombardia. Felici titolari che conducono l'azienda di famiglia attiva da oltre un secolo. La storica azienda Marco D'Oggiono Prosciutti è stata proposta dal Comune di Oggiono per la candidatura al prestigioso premio Rosa Camuna di Regione Lombardia. Il premio viene conferito ogni anno a coloro che hanno contribuito in modo particolare allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Regione. L'edizione 2020, che celebra il cinquantennale dell'istituzione della Regione Lombardia, premierà i protagonisti che hanno fatto la storia del territorio. Ho ricevuto da parte dell'assessore Gian Domenico Corti una gentile richiesta. Devo dire che la cosa mi ha fatto piacere, mi ha stupito e sono stata davvero lusingata e so che stanno portando avanti questa candidatura. Spero tanto nel premio, perché è un premio prestigiosissimo, è già sufficiente essere candidati a questo premio. Ringrazio ancora l'assessore e il Comune di Oggiono che ha pensato a noi. La nostra azienda ormai antica si può dire che risale alla fine del 1800 e abbiamo sempre cercato di legare il nostro prodotto alla tradizione del territorio. Innanzitutto con il nome Marco D'Oggiono che è il nostro più famoso concittadino, grande allievo di Leonardo da Vinci. E poi noi proprio continuiamo a produrre salumi come si faceva con moderne tecnologie, ma come si faceva negli anni 50-60 con la stessa qualità. Nel 2011 anche un evento molto particolare che ha portato i vostri salumi nello spazio. Ci fa sempre un piacere infinito ricordarlo. Nel 2011 abbiamo mandato all'astronauta Paolo Nespoli nello spazio delle confezioni di prosciutto Marco D'Oggiono. Tra l'altro l'ingegner Nespoli è stato premiato l'anno scorso con questo prestigioso premio. Lo saluto e lo ricordo sempre con infinito piacere. Ed era l'ultimo servizio di questa edizione del Telegiornale. Continuate a seguirci anche sui social, su Facebook, su Twitter, su YouTube, sul nostro sito www.teleunica.com. Grazie per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie per essere stati con noi.